Perché arriva Shaggy! Incredibile ma vero! Ancora personaggi! E allora 0815466873 per chiedere quello che vi pare al nostro Shaggy! Pronto? Pronto? Vai Saverio! Vai Saverio! Ma perché mi hai spiegato una cosa? Si ferma le sti guagliurrimi da buffo come i pur che poi vanno a provare costume Poi vanno a compastare ceppare i pur pettuno, perché? Bravo! Ma venga pronto sta risposta, venga pronto fresca e tosta Sti guagliurini vanno a mangiare, vanno a buffare e vanno a scufare E mentre noi pensiamo a dimagrire, o dietologo fa arricchi Ma affinare la colpa non è allora, sembra nostra Pure perché pure se la panza diventa tosta con mano mellona Il mio costumo non ci potemmo mettere alla prima esibizione Sinceramente in una perda faccio solo una figura e meh Non lo posso ricerlo perché faremo ma sto sempre per coppa diretta E al loro costumo sai cosa faccio? Non me lo metto Come chi li diventa se mettere talmente scorno Con ogni giorno in coppa arena se mettono in un costumo per bene Se mettono pure la cannottiera con mia maglia e la salute Tenere una panza che è cresciuta a botte e mangiare come sa da fa' Varo mollono ma anche spaccato, sana se l'ha mangiato, se l'ha giuttuto Sai perché? No! Tutti chi? Perché sono romanti, che sono bombasti, che sono fantasti, che sono lovati Ah! Che l'ha da telefonata Ah! Devo dire informissima Shaghi in questo pomeriggio qui al Bucano Buono Ah! Approfittate e chiamate subito Pronto! Pronto! Eccoti qua, chi sei? Ciao, sono Mario Ah! Vai! C'ho mio nipote Umberto che non poteva ricchione Mi fai una rima! C'ho mio nipote Umberto Stanno in una società aperta E' un terzo sesso Ormai è ben accetto E ti posso dire che l'importante è che non mi metto La rosa c'è stata accorta Ma l'hanno mi chiede storta Non mi faccio di ricerci le parole Perché sono l'orgoglio napolitano Pure il richiuro se lo vanno piano piano Non mi posso dire Addirittura prima era intesa come una mala parola E invece poi è una cosa buona Ma l'importante è che io sono romantico e bombastica E mi sto accorto a chi tenga rete Ah! Prossima telefonata per Shaghi Approfittatene le vostre domande E poi una risposta facciata Eh! Pronto! Shaghi! Ciao! La mia società ha detto che Bisogna il tatuaggio sulle braccia Deve portare la camicia a mano in giro Inizia qualcosa Ah! Ma per cortesia Venite da parte mia Se venite quando ne tenghi i tatuaggi Sono peggio dei raggi E' una bicicletta E non lo sacci più Come bacio e come metto Messaggio personale Per Marco Florio Direi chi ora la telefonata Una volta che io ha già rappato Perché altrimenti Giusto non sa la nuca Ma ci ha concentrato E non lo sacci come sa da fa' Giammanmanza va! Ah! Eccolo qui la prossima telefonata per Shaghi Pronto! Pronto! Chi è? Alessandro Ah! Vai Alessandro Shaghi! Su Cicero si si coce Pronto! Pronto? 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 Sì chi sei? Sono Tristano Ah! Sì vai! E' il mio 8 dollare che non mi paga da tempo Ahhhh! Mi senta meglio E' che da già ricerci E sto svegli Però è come se stessero un man Come se mi scedassero un brutto suon E un fun non fun Già sace che siamo voti sotto in coppia Non riesce manca una lira Anzi stiamo veramente come se mi portassero un euro Ma non riesce manca un euro Sai perché? No! Figliamo l'ultima telefona E allora eccola qui l'ultimissima per Shaghi Poi Mastaniello e Giovaniello Ma sentiamo l'ultima domanda Pronto? Pronto? Ah! Chi sei? Abbassi un po' il volume grazie Antonio sto sempre a Luca da San Pio Ah! Luca vai! Senti Shaghi fammi una bella canzone a quella bella ciaccara che sta insieme a voi con la maialina Ah! Dichiarazione! Vi resta accorta, stai parata, è arrivata pure unnamorata Qui ne muoio a chiappa, non confano i palati, non confano i mazzati Però se tu stai caro con il cano buono Buono te a sta, perciò vi non lo fa Che sta bella guaglione, che ci ha accompagnato in un dacchisto tormentone Da sta situazione, c'ho un cano buono Si chiama Marta, e piessa ammara e pace Lammaraccio, damma, altissimo ligello Come so bella, bella son chi, bella è purezza Da ciò dice la verità Io non mi sento mica in offenza, è sempre lo stesso E questa parola la sta, e pur Marta sta cà E tu invece si russa e taggierci la verità Ma ogni dovere è un mousse, e a Marta la sta sta Sai perché? No, tu di chi? Perché son romantiche, son bombaste E son pro lo va I Dappi, su Radio Kis Kis Napoli Allora, che ne dice? Beh, è una Subaru, trazione integrale motore boxer Il massimo per la sicurezza Sì sì, l'impresa è benzina, b-fuel e diesel La sua astronave infermuta? Di che anno è? Duemila due, avrei detto duemila uno Subaru imprezza widget Powered by intelligence Fino al trenta giugno, b-fuel al prezzo del benzina Con un risparmio di duemila trecento euro Negli showroom Subaru aderenti Sono Paolo Pininfarina Da ottant'anni il nostro design esprime eccellenza estetica e tecnologica Gli stessi valori di Alexsons Che da sempre si prende cura delle nostre auto con la massima efficacia Come rimuovi graffi Alexsons Che grazie alle microparticelle elimina i graffi superficiali dalla carrozzeria dell'auto Conferendole la luce in pezzo originale Alexsons makes the difference Stati ascoltando Radio Kiss Kiss Napoli Kiss Kiss Notizie Un saluto dalla redazione In Italia c'è la possibilità che qualche vescovo abbia coperto casi di abusi sessuali commessi da sacerdoti Lo afferma il Cardinale Bagnasco durante l'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani Si tratta di una cosa sbagliata che va corretta e superata detto il presidente della CEI Pubblicati sul sito del PDL gli undici emendamenti presentati dal centrodestra al DDL Intercettazioni Tra le proposte di modifica anche la possibilità di pubblicare gli atti delle indagini per riassunto Lo sport, il Giro d'Italia Ivan Basso strappa la maglia rosa ad arroio Sulla durissima salita del Mortirolo il ciclista della Liquigas porta l'attacco decisivo al primato dello spagnolo Michele Scarponi ha tagliato il traguardo per primo Accordo raggiunto tra Massimo Moratti e il presidente del Real Madrid Florentino Perez José Mourinho e ufficialmente il nuovo allenatore dei Merengues Risolto il problema della clausola, 8 milioni di euro all'Inter per la rescissione del contratto E tutto a più tardi Pubblicità Il conto di che banca